riempì il pavimento di fiaschi tattica aperta a cura di vb salgemma tolse il sedile accanto al guidatore riempì il pavimento di fiaschi e li nascose sotto fogli di giornale la sera prima betulla aveva parcheggiato la 500 rubata davanti ai grandi magazzini e nella notte avevano coperto di slogan i muri delle vie adiacenti con bombolo e spray a vernice rossa avevano scritto i torti feraci diventeranno vendette veraci al vento del regime che tira cattiveria opporremo la rivoluzione cap scrisse uno slogan di sua invenzione che diceva nessuna rivoluzione ha mai chiesto permesso di fronte all'entrata dei grandi magazzini spruzzarono se il grido di tattica resterà in piedi qualcuno lo raccoglierà k ripeteva sempre ai compagni di servirsi della propaganda murale come di un'arma e i compagni ubbidivano mezz'ora prima della chiusura dei grandi magazzini i quattro si diressero verso una 500 da punti opposti indossavano tutti i jeans e giacchi a vento ed erano indistinguibili dieci minuti prima betulla aveva intriso di benzina lo vatta intorno ai fiaschi lasciarono aperto lo sportello della macchina su quel marciapiede la gente era poca e frettolosa sal gemma impugnò una bottiglia tenendola dal fondo chiara luce accesa l'ovatta il proiettile partì verso le vetrate volò sulla strada e si infranse a terra con un rumore di tuffo la benzina uscì a fiotti si infiammò al contatto dell'ovatta accesa e si sparse tra i piedi dei passanti qualcuno rientrò gridando nei grandi magazzini chiara luce schiocco la lingua e lanciò il secondo fiasco che spaccò la vetrata betulla in un attimo lanciò tre fiaschi cap si confuse tra la gente ed entrò dall'ingresso principale gettò un mazzo di volantini e uscì correndo betulla lanciò un altro fiasco sullo scatolame il liquido incendiato serpeggiò tra i pelati e le confetture e divorò le etichette di carta l'uscita dei grandi magazzini era accerchiata da un lago di fiamme l'incursione era durata meno di due minuti e la gente non si raccapezzava chi non aveva visto i fiaschi volare non credeva un atto terroristico soprattutto la sua rapidità aveva ingannato a un cenno di chiara luce i quattro si allontanarono in direzioni opposte e per via secondarie in pochi secondi affondarono nella protezione della folla cap camminò per prima ad andatura normale commento la rivoluzione è la materializzazione nel piano fisico della rivoluzione intima della collettività incarnata come ogni evento storico la rivoluzione nasce dalla forma coscienza ossia dalle esigenze evolutive della collettività che crea e sperimenta la rivoluzione in futuro un numero sempre maggiore di individui grazie a un più ampio sentire avrà nei riguardi della società una tensione interiore che colmerà gli squilibri che sfociano nelle rivoluzioni